Amici di 8 Channel, buon pomeriggio dal Ciro Vigorito. Tra qualche istante fischio d'inizio di Benevento Torrecuso, amichevole di prestigio per il Torrecuso che è per la prima volta al Ciro Vigorito di Benevento e viene accolto dalla squadra di casa che fa la sua seconda apparizione stagionale, almeno in gara. Questa non è una gara ufficiale ma comunque una gara da 90 minuti davanti al proprio pubblico. Oggi ingresso libero al Ciro Vigorito, diversi tifosi sono a corsi per ammirare le gesta di Lucioni e compagni a circa due settimane, anzi poco meno, dall'inizio del campionato. Le formazioni sono già disponibili, possiamo quindi andarle a leggere. Partiamo dal Torrecuso che schiera in porta a Minichiello con il numero 2 Furno, De Santis con il numero 3, con il numero 4 Di Lullo, il 5 Conti, il 6 Sgambato, il 7 Varricchio, l'8 Fazio, il 9 Zerillo, il 10 Felici e l'11 Picozzi. Il mister è Farina. Proprio gli ospiti di turno adesso hanno provato una soluzione con uno scambio tra il numero 11 Picozzi e il numero 9 Zerillo ma la difesa del Benevento è stata attenta e ha sbroiato subito la situazione. Il Benevento invece si schiera con il classico 3-4-3, partiamo dalla porta che è difesa da guarda, attenzione perché c'è già un tiro e c'è il gol, c'è il gol, dovrebbe essere Di Molfetta a realizzare, il numero 10 sì, Di Molfetta a realizzare con un gran destro a giro, a befare Minichiello dopo soli due minuti di gioco. Quando l'azione sembrava non essere pericolosa, ecco il destro a giro di Di Molfetta, grande esecuzione la sua e 1-0 dopo praticamente due minuti di gioco. Il Benevento è già in vantaggio, Di Molfetta. È il caso di dire neanche il tempo di leggere le formazioni perché è stato tutto abbastanza fulmineo, comunque dicevamo una difesa a tre del Benevento composta da Pezzi, Lucioni e Padella, quindi Pezzi arretrato nella linea dei tre difensori. La porta è difesa invece da Gori, a centrocampo ci sono Troiani, il nuovo acquisto, Del Pinto, Cruciani e Mazzarani sulla sinistra. Invece il trio d'attacco è composto da Ceciretti sul centrodestra, poi Sisse come punta centrale e Di Molfetta che abbiamo visto già all'opera con il suo piede preferito, il destro, sul centrosinistra. La partita è iniziata da poco più di due minuti, era iniziata da poco più di due minuti quando Di Molfetta ha pescato il jolly. Ora siamo al quarto di gioco in corso, il Torrecuso è già costretto ad inseguire un Benevento che è partito a razzo, a differenza di quanto aveva fatto ieri con il Lavello. Ora prova un'iniziativa il Torrecuso con Fazio per il numero 11 Picozzi, c'è però un'irregolarità e la punizione è accordata al Benevento. E' Padella ad incaricarsi della rimessa laterale, quindi non è una punizione ma una rimessa laterale che è stata accordata ai giallorossi. Si era sentito il fischio dell'arbitro che però probabilmente aveva semplicemente segnalato l'inversione della rimessa, visto che il Torrecuso si era già portato in posizione di battuta. Ciciretti si destreggia in mezzo a tre avversari, poi il calciatore Scuola Roma subisce fallo, punizione per i giallorossi, pallone Troiani il nuovo acquisto, quindi c'è molta curiosità su di lui, sulle sue prestazioni. Il numero 2 del Benevento, reduce dalla vittoria di due scudetti consecutivi primavera, la sua prima esperienza tra i professionisti, non vuole deludere, vuole mettere in mostra tutto il suo potenziale. Ora qui c'è un fallo subito da Sissé e dall'ex Benevento Furno, che quando vestiva la maglia giallorossa ha anche disputato le universiadi. Calciatore di San Leucio del Sannio, quindi Sannita Purosangue. Il Torrecuso ne ha tanti di calciatori sanniti. La squadra di Farina che parteciperà a partire dal prossimo 6 settembre al torneo di Serie D. Intanto c'è una punizione tutta da seguire per il Benevento. Sul punto di battuta ci sono Ciciretti e Cruciani. Vediamo che soluzione adotteranno, sicuramente. Attenzione, una punizione a due, Cruciani sul secondo palo verso Lucioni che prolunga il centro a pescare l'inserimento del pinto. La palla si perde sul fondo. Ha varie opzioni in questi casi il Benevento. Su punizione da tre quarti. Può sfruttare sia i mancini che i giocatori, ovviamente in maggioranza, di piede destro. Tecnicamente molto dotati tutti i componenti del pacchetto offensivo. Le uscite precedenti abbiamo visto Campagnacci, Mazzeo e Marotta. Oggi invece è il turno di Ciciretti e Cruciani che nel precampionato hanno già dimostrato di saperci fare. Dicevamo che non si tratta di amichevole ufficiale. Quindi la presenza di Gori è assolutamente legittima, così come quella di Auteri in panchina. Troiani batte la punizione corta per Ciciretti che poi lascia partire Di Molfetta che si è spostato nel frattempo sulla otto destro. Un passaggio sbagliato proprio per Troiani che adesso avanza palla al piede con il destro. Il passaggio per Di Molfetta è impreciso. Riesce comunque ad appropriarsene della sfera il calciatore Scuola Milan. Padella prova una soluzione per Ciciretti. C'è rimessa laterale, semplice rimessa laterale per il Benevento. Se ne incarica Troiani. Ciciretti, Troiani con grande eleganza. Poi conquista il fondo, si allunga troppo il pallone. E' stato anche bravo De Santis ad evitare che il calciatore giallorosso riuscisse quindi a crossare il pallone al centro e ad avere lo spazio giusto, i tempi giusti per pescare magari la testa di Sissé, che adesso va in pressione, sul numero 8 Fazio che se la cava bene per Minichiello. Ancora Fazio gioca un po' troppo nel reparto arretrato del Torrecuso. Prova Padella all'anticipo su Picozzi. Ancora il Torrecuso, ancora il rosso-blu a provare a gestire palla. Del Pinto alla meglio sul solito Fazio. Poi arretra per Luciani che a sua volta si affida a Gori. Del Pinto. Pezzi prova l'avanzata. Si fa vedere di Molfetta. Viene invece servito Cruciani che sbaglia il controllo. anzi, dovrebbe trattarsi di Mazzarani. Si, che ha sbagliato il controllo. E dunque Conti può approfittarne per rinviare. Ancora Mazzarani. Pallone all'indietro per Lucioni. Pezzi. E Padella. Del Pinto. Si, si. Con il piatto per Ciciretti. Poi Del Pinto. Ancora per Cruciani. Zona centrale del campo. Qualche finta di Cruciani. Poi Pezzi. Pesca Ciciretti. Poi ancora Mazzarani. Il cross al centro sarà calcio d'angolo. Il primo per il Benevento. Si è in carica Ciciretti. Un Benevento che è partito bene. Ha trovato subito il gol dopo neanche due minuti per una giocata di Molfetta. Un gran destro a giro che non ha lasciato scampo a Minichiello. Adesso prova a cercare Gerra a doppio con questo calcio d'angolo di Ciciretti. Ecco la battuta. Traiettoria di uscire. Il tiro di Ciciretti. Fantastico. Un destro al volo. Che ha quasi bugato la rete. Posizionata sotto la curva sud. Grande giocata di Ciciretti che si è smarcato benissimo. All'ottavo minuto di gioco. Per il 2-0. Un destro spaventoso di Ciciretti. Che nel test in famiglia di sabato aveva firmato una tripletta. e che adesso si conferma protagonista. Si candida ovviamente ad un ruolo da titolare per le partite che conteranno davvero. Il discorso relativo alle punte è abbastanza semplice. Nel Benevento c'è tanta concorrenza. Ma uno con le caratteristiche di Sissè. È unico nel pacchetto offensivo giallorosso. Che annoverà tra gli altri. Lo ricordiamo anche Mazzeo, Marotta e Campagnacci. Oltre ai tre. Che in questo momento sono in campo. Ovvero Sissè, Ciciretti e Di Molfetta. Del Pinto per Cruciani. Sbaglia però l'assistenza a Del Pinto che non riesce a recuperare la sfera. Che adesso è in possesso di Furno. Poi Zerillo. Cruciani all'indietro per Lucioni. Pezzi. Il Benevento può quindi ripartire. Anche se c'è questo pressing del Torrecuso abbastanza fastidioso. Sul settore sinistro difensivo dei giallorossi. Pezzi. Con grande calma. Si fa quasi vedere Ciciretti per chiedere il passaggio lungo. Poi viene incontro. È libera quindi di conseguenza Troiani sulla corsia di destra. Poi Ciciretti numero su Zerillo. Ancora Ciciretti. Stavolta per Troiani va via sulla corsia di destra. Attenzione Troiani. Al centro c'è Di Molfetta e la parata di Minichiello in calcio d'angolo. Secondo del match per il Benevento. Stavolta però sarà calciato dal versante destro. Non cambia però il tiratore che è Ciciretti. Proverà lui l'assist vincente. Prima si è riuscito per assistire. Vediamo adesso come si comporterà il Torrecuso in fase difensiva su questo calcio piazzato. Otero intanto dà indicazioni. Angolo battuto corto. Ciciretti viene steso dal numero 11 Picozzi. Fallo che viene anche segnalato dall'assistente Signorillo. E c'è un'altra punizione per i giallorossi che hanno un'altra opportunità di scodellare questo pallone al centro. C'è qualche lamentela dei giocatori del Torrecuso in primis del numero 8 Fazio. Uno dei più attivi in questi primi 12 minuti di gioco. Va Ciciretti. Cross al centro. La palla arriva dalle parti di pezzi. Poi Cruciani. Ancora per Ciciretti. Il cross di nuovo. Stavolta è bravo Conti a liberare l'area. Solo per un attimo però perché poi il Benevento era riuscito in qualche modo a toccare palla. Siamo già dall'altra parte. Dico Zerrillo. Ce ne sono due su di lui. Sono Troiani e Cruciani. Ora è proprio Cruciani che rilancia lungo alla volta di Dimolfetta. Ottimo controllo di Dimolfetta. Situazione positiva per il Benevento. In fase di transizione. Si segue, fa movimento, taglia il giocatore guineano ma la difesa del Torre Cuso stavolta è abbastanza attenta. Il Benevento deve ripartire da Del Pinto. Gran numero di Ciciretti. Doppia finta. Va via Ciciretti. Il tiro di Ciciretti sul fondo. È davvero un ottimo spunto quello di Ciciretti che ha provato l'azione personale. Si è bevuto praticamente due avversari. Il secondo dei quali Conti. E poi ha concluso con il sinistro. Un pallone che è terminato non di molto alla sinistra di Minichiello. Attenzione perché c'è Sissé. Subito il Benevento ha recuperato palla. Sissé è abbastanza vivo in questa prima parte di frazione. Troiani dialoga con Dimolfetta. Il cross al centro è la parata di Minichiello in presa bassa. Partita comunque abbastanza vivace. in queste prime battute. Ora Sissé deve inseguire questo pallone. Lanciato un po' così alla rinfusa da Padella. Minichiello ha la meglio e anticipa l'attaccante prelevato dalla Casertana in questo mercato. Fazio per Conti a cercare Varricchio. Viene però anticipato Varricchio in maniera irregolare secondo l'arbitro. e può ripartire il Torrecuso con Fazio. Ancora verso Picozzi in questo momento felice a cercare l'inserimento dello stesso Picozzi. Il dai e vai però non va a buon fine. e Gori fa ripartire l'azione da Pezzi. Avanza Pezzi. Trova Ciciretti. Solita trama sulla corsia sinistra. Poi di piatto verso Sissé. Si libera bene Sissé. La dà del Pinto. Deve anticipare il diretto marcatore del Pinto. Ci riesce. E serve Troiani. Ma via Troiani sulla corsia di destra. Serve Di Molfetta. 1-2 con il calciatore di proprietà del Milan. Poi una finta di Di Molfetta. Qualità tecniche indiscutibili. Quelle dell'esterno offensivo giallorosso. Numero 10. Attenzione Di Molfetta. Ancora lui. Pesca Sissé. L'inserimento è perfetto. Ci mette però una pezza. Fa bene De Santis. Perché Sissé era pronto a cercare la doppietta personale. Quindicesimo minuto. Siamo al quarto d'ora di gioco. Il Benevento conduce 2-0. In virtù delle reti di Di Molfetta. E Sissé. Crossa al centro adesso di Cruciani. Dalla bandierina del corner. Del Pinto prova a girarla. Trova però l'attenta risposta della difesa del Torrecuso. Che adesso può provare il contropiede. Zerillo deve vedersela in uno contro uno con Troiani. Poi pesca il numero 10. Felici. La conclusione è però infelice. E la palla è di nuovo di proprietà del Benevento. Difesa giallorossa che ha dovuto ripiegare in tutta fretta dopo questo contropiede. Si è fatto notare Zerillo con uno scatto abbastanza fulmineo. Ma è stato bravo in quel caso Troiana a chiudere la strada verso la porta. Ora Lucioni lascia correre per Gori. Ci è sgambato. Adesso se l'è presa con De Santis. Dandogli indicazioni su come ripiegare su Ciciretti. Che sta facendo davvero venire il mal di testa alla difesa del Torrecuso. Al pari di Di Molfetta. D'altra parte conosciamo bene le caratteristiche dei due. Sono due calciatori duttili, dinamici, che amano il cambio di passo. Ed è difficile tenerli obiettivamente. Ora è proprio sgambato un altro ex giallorosso che ha servito Conti. Torrecuso prova a riproporsi con Zerillo che ha lanciato Picozzi. C'è un passaggio di Picozzi per il numero 7, Varricchio. Qualche applauso anche dalle gradinate per questa iniziativa del Torrecuso. Ben orchestrata. Questa trama della squadra di Farina. È un Torrecuso che oggi è un compito non facile. Visto che il Benevento sta aumentando i ritmi. Anche relativamente alla concentrazione per il nuovo campionato. Campionato che vedrai già loro si esordire il 6 settembre. Proprio qui al Ciro Vigorito contro la Vigor Lamezia. Proprio oggi sono stati resi noti i calendari del campionato di Lega Pro. Per la squadra di Auteri il primo big match è quello alla terza giornata contro il Foggia. Proprio qui nel Sannio. E in quell'occasione calcoli... Attenzione perché c'è Troiani che va via. Attenzione Troiani, Troiani. L'iniziativa di Troiani. Poi il destro viene parato da Minichiello che ha il suo ben da fare. Se il buongiorno si vede dal mattino, Troiani è uno che ha personalità, voglia di fare. Ma d'altra parte il suo ruolo decisivo nelle formazioni del Chievo Primavera e del Torino Primavera vincitrici degli ultimi due scudetti di categoria. La dice lunga. Cruciani adesso corto per Di Molfetta. La palla resta però da quelle parti. Termina di nuovo in fallo laterale. Andrà proprio Cruciani a batterlo. Anzi lascia il compito a Troiani. Ceciretti chiama la battuta corta. Preferisce però affidarsi ad un'altra soluzione. Quindi a Di Molfetta, Troiani. Si cercano molto i due. Si se. Lo stretto, grande numero di Ceciretti di tacco verso il numero 10 Di Molfetta che probabilmente subisce anche fallo in piena area di rigore. Per l'arbitro però è semplice calcio d'angolo. L'intervento di sgambato quindi regolare. Calcio d'angolo che sarà battuto da Cruciani. C'è il solito mucchio in area. Trossa al centro. Si propone Pezzi che viene però anticipato. Da questo lato Picozzi facilita l'intervento di Zerillo ma il suo passaggio è impreciso alla volta di Felici. Il Benevento può ripartire con Del Pinto. Mazzarani. Lucioni. Mazzarani deve ritrovare la posizione. Infatti va a rimettersi nel suo ruolo predefinito cioè quello di esterno sinistro nella 3-4-3. Proprio adesso Cruciani aveva provato a vedere se fosse libero. Ha preferito affidarsi però a Del Pinto. Adesso ha cambiato gioco per Troiani. La palla corta ma anche insidiosa per Di Molfetta che in questo caso poteva fare ben poco. Dicevamo il primo big match della stagione per il Benevento la terza giornata qui al Ciro Vigorito contro il Foggia in quell'occasione non ci potrà essere Gori la cui squalifica terminerà nel weekend del 4 ottobre quindi dopo la quarta giornata e non ci potrà essere neanche no invece sarà scusate accessibile a a mister Auteri la partita Auteri che dovrebbe saltare soltanto la prima giornata di campionato ma sappiamo che non possiamo dare nulla per certo a causa dei ricorsi e dei decorsi della giustizia sportiva in particolar modo nel ricorso del del Serigno che spera in un allargamento delle squadre partecipanti alla Lega Pro anche se con la pubblicazione la compilazione dei calendari tutto reso più difficile vedremo come si evolverà la vicenda vedremo l'evolversi di questa situazione abbastanza intricata per l'ennesima estate calda del calcio italiano speriamo che sia per terminare con l'inizio di un campionato avvincente che vede in pool position il Foggia di De Zerbi e subito dopo diverse squadre tra cui ci sentiamo di mettere anche il Benevento Cruciani adesso Del Pinto per Ciciretti corto per Del Pinto di Molfetta Del Pinto la palla si muove velocemente ma resta sempre nel cerchio di centrocampo ora prova a Cruciani a cambiare gioco per Troiani passaggio per Del Pinto troppo morbido però il servizio di Del Pinto alla volta di uno tra Sissè e di Molfetta quindi furno lungo verso Picozzi ma Luciani non bada a Fronzoli e la mette in fallo laterale abbiamo superato i 20 minuti di gioco 2-0 per il Benevento di tacco adesso di Lullo in fallo laterale Padella osserva il posizionamento dei compagni vede il sistema che viene ancora anticipato ora di Lullo per il numero 7 del Torre Cuso Varricchio poi Conti la volta di Furno bravo di Molfetta anche in fase di ripiegamento poi Del Pinto viene sbilanciato chiama fallo c'è qualche lamentela proprio di Di Lullo che aveva dato un colpetto a Del Pinto in fase di controllo palla Del Pinto è caduto e l'arbitro che è Mercurio della sezione di Benevento ha deciso di fischiare la punizione siamo già sulla trequarta offensiva del Benevento Ciciretti prova a memoria l'assist per Siste che lo ringrazia partito però con un secondo di ritardo l'attaccante giallorosso la prima punta su questo servizio di Ciciretti c'è stato anche qualche timido applauso del pubblico che sta apprezzando l'intraprendenza di questo Benevento sicuramente più vispo rispetto a quello visto nella prima frazione ieri anche se va detto interpreti sono cambiati per 11 undicesimi quindi due formazioni totalmente diverse quelle schierate da Oteri Troiani per Cruciani di nuovo per Troiani deve guardarsi bene dalla marcatura di De Santis ora un 1-2 tra Ciciretti e Di Molfetta i due parlano la stessa lingua ma in questo caso il pallone di ritorno di Ciciretti non è stato abbastanza potente per essere raggiunto dalla calciatore numero 10 Cruciani Ciciretti finita di Ciciretti a liberarsi di Felici quindi Troiani Troiani per Ciciretti il pallone di ritorno è troppo lungo De Santis da quelle parti sta vendendo cara la pelle davvero difficile tenere a bada Troiani che ha anche tanta voglia di mettersi in mostra un calciatore che ha ritrovato in giallorosso Bonifazzi Bonifazzi che difficilmente vedremo in campo oggi vittima di qualche dolore negli ultimi allenamenti prima di questa doppia amichevole Di Lullo a cercare Picozzi vince un paio di rimpalli Picozzi poi il solito Troiani amministra bene palla con grande eleganza poi si ferma la gira all'indietro per Padella controllo di Padella troppo lunga la palla però sia per Ciciretti che per Di Molfetta e quindi Minichiello può ripartire proprio da Sgambato poi Fazio per Sgambato e ancora Minichiello pallone lungo Padella lo lascia scorrere fa male però perché c'è Zerillo che adesso riceve e palla da Felici Pezzin gran lavoro in diagonale allontana la minaccia per Lucioni il Benevento ne esce abbastanza bene Lucioni per Troiani gli applausi del pubblico presente perché c'è un'azione insistita sulla corsia di destra Lucioni quasi conquista il fondo poi crossa al centro per Sise anzi un cambio di gioco perché Sise si era fatto vedere sulla corsia sinistra prova a liberarsi di due avversari che sono il numero 7 Varricchio e il numero 2 Furno poi hanno la meglio quelli del Torrecuso proprio con Varricchio che scambia con Furno Torrecuso però si affida troppo ai lanci lunghi e poche volte all'azione manovrata e Lucioni Padella e Pezzi stanno ringraziando calorosamente i centrocampisti Rosso Blu per la gentile concessione poche volte il Torrecuso si è fatto vedere dalle parti di Cori ci può stare ovviamente vista la differenza tecnica ma è anche un benevento che sta facendo molto bene in questo in questo primo tempo è molto attivo molto vivace Cruciani il passaggio stavolta però è impreciso alla volta di Ciciretti strappa comunque qualche applauso perché si era mosso bene in questo caso Mazzarani scusate non Ciciretti ovviamente sulla otto sinistro c'è già il primo cambio per il Torrecuso a diverse alternative Farina entra il numero 19 che è Pastore ed è uscito il numero 11 Picozzi primo cambio quindi per il Torrecuso quando siamo al 27esimo minuto si segnala anche questo all'interno del primo tempo di Benevento Torrecuso quel vigorito 2 a 0 per ora il punteggio di Molfetta e si sè nei primi minuti di gioco Pezzi va via per via centrali si fa in golosire da questa giocata poi sulla sinistra verso di Molfetta si fida troppo di se stesso però il ripiegamento di Varricchio è positivo il Torrecuso può quindi provare ad allontanare la sfera Furno per Di Lullo per il nuovo entrato Pastore quindi Di Lullo ancora ma Padella e Del Pinto fanno buona guardia e sulla sinistra di Molfetta dialoga con Cruciani Ciciretti Cruciani per Del Pinto sono loro i due centrali di centrocampo oggi del Benevento ieri Autari aveva schierato De Falco e Marano contro il Lavello c'è un brutto fallo del numero 8 Fazio su Del Pinto un'entrata da dietro che scatena anche le proteste del calciatore giallorosso prelevato dall'Aquila indubbiamente un intervento che ha poco a che vedere con una gara amichevole considerando anche la vicinanza del campionato non c'è proprio bisogno di farsi del male ma l'azione è già ripartita e Del Pinto per fortuna si è rialzato senza problemi Lucioni fa ripartire tutto da pezzi Cruciani Di Lullo stavolta è bravo e attento ad interrompere l'avanzata del calciatore giallorosso ci sarà una rimessa laterale rimessa laterale che sarà per il Torrecuso Furno chiama un pallone perché da quelle parti non ce ne sono di raccattavale ovviamente neanche l'ombra trattandosi di un amichevole quindi bisogna fare da sé ed è quello che arriva il pallone a Furno per la rimessa che probabilmente sarà lunga all'indirizzo di Pastore pezzi capisce come al solito tutto poi Del Pinto sovrasta Felici e allarga per Troiani che ha abbastanza spazio solito duello con De Santis è bravo De Santis a interrompere anche questo passaggio questa trama del Benevento un fallo laterale battuto già da Troiani Del Pinto Ciciretti controllo di Ciciretti per Troiani ecco il controllo anche di Troiani per Del Pinto che sbaglia questo passaggio per Cruciani la sensazione è che non ci siano le misure tra i due adesso Cruciani però ha una buona idea lanciando sull'otto sinistro Mazzarani la palla per Di Molfetta Cruciani ancora per Di Molfetta impreciso questo passaggio il pallone termina dritto nei distinti ce n'è bisogno di un altro quindi Troiani lo lascia arrivare proprio dalle parti di di Mazzarani che si incarica della battuta con le mani siamo alla mezz'ora di gioco Di Molfetta Del Pinto corto per Ciciretti cercano l'1-2 i due giocatori del Benevento 1-2 che si completa con qualche difficoltà adesso ancora Ciciretti servito da Del Pinto poi Troiani crossa il centro di Troiani la palla sfila Furno la lascia la spazza via quindi Pastore recrimina per un presunto fallo ai suoi danni pezzi cambia tutto per Ciciretti vediamo se proverà l'1-1 Ciciretti prova anche lui il tiro a giro il sinistro a giro per remulare Di Molfetta che più o meno da quella posizione ma dal lato opposto aveva trovato l'1-0 con il suo destro in questo caso però la conclusione è imprecisa termina oltre la linea di fondo Minichiello posizione il pallone per una battuta che staremo a vedere se sarà lunga a cercare la punta centrale Pastore è lunga ma va provare a trovare Diego Zerillo Torrecuso è costretto a ripartire da dietro ecco Pastore di tacco per Zerillo per via centrale Torrecuso adesso Felici pallone che resta libero perché Padella è bravo a stoppare tutto e a far ripartire il Benevento Del Pinto sbilanciato ancora una volta da Pastore stavolta cenno di intesa tra i due comunque Lucioni Troiani controllo e poi passaggio per Padella del Pinto del Pinto Ciciretti ancora Ciciretti fa tutto di sinistro poi cambia tutto meravigliosamente per Di Molfetta deve controllarla bene controllo un po' difficoltoso poi l'intesa con Sisse questa volta non funziona benissimo e Furno può trasformare l'azione da difensiva in offensiva per il Torrecuso Felici per Furno va in zona tiro ci proverà vediamo Furno il tiro di Furno non è un gran tiratore effettivamente ma aveva tutto lo spazio per provarci alla fine ha fatto bene per per il Torrecuso anche se la sua conclusione è stata ribattuta dalla difesa tiro non sembrava un gran che ma in quei casi bisogna provarci anche se non si hanno magari le predisposizioni giuste Furno intanto è rimasto in avanti liberato qualche spazio sulla destra per l'inserimento di Zerillo per vie centrali ma il pallone di Conti in questo caso non è stato non è stato granché Pastore adesso in possesso di palla ma ci sono solo Maglie del Benevento da quelle parti e Zerillo è finito in fuorigioco preferisce disinteressarsi della sfera che termina dalle parti di pezzi Lucioni ritmo che sia un po' abbassato in questi minuti ci avviamo verso il 35esimo di gioco contro il Lavello non sono stati 90 minuti puri c'è stato qualche minuto in meno nella distribuzione dei due tempi anche in quel caso non si è trattato di gara ufficiale Torrecuso viene chiuso in questa situazione in fase difensiva da Cruciani era stato Fazio a provare a liberarsi adesso Di Molfetta viene strattonato dal numero 6 sgambato c'è una punizione assegnata proprio per questa trattenuta andrà Di Molfetta da quelle parti in una sorta di corner corto alla battuta con il suo sinistro Padella e Lucioni al centro attenzione la battuta di di Ciciretti e poi una deviazione anzi una doppia deviazione che non ha sortito però gli effetti sperati per il Benevento sarà un altro calcio d'angolo aveva provato Padella ad anticipare sul primo palo quando si presenta in area avversaria Padella è sempre un pericolo va Cruciani alla battuta dall'altro lato cross al centro di Cruciani sembra buono Michelo esce con i pugni non rischia niente il portiere del Torrecuso rimessa con le mani di Padella per pezzi corto per Padella il dive vai con pezzi però non funziona ci sarà una nuova rimessa laterale Troiani chiama palla vuole batterla lui probabilmente proprio così Padella gliela lascia vediamo che soluzione adotterà il calciatore di proprietà del Chievo Ciciretti soluzione non eccezionale visti gli esiti Ciciretti ha provato a ridare palla a Troiani ma il pallone è rimasto lì controllato male l'esterno ex Messina e Carrarese adesso Padella per via centrali va via Padella allarga il gioco per Dimolfetta Dimolfetta contro Furno Furno lo chiude bene poi il solito tandem con Varricchio per il liberamento della zona difensiva Mazzarani per Dimolfetta vince il rimpallo Dimolfetta non si arrende però Varricchio che poi subisce anche fallo si sbraccia un po' Auteri che vorrebbe vedere qualcosa di più da quelle parti effettivamente il Benevento si è fatto vedere di più sulla destra dopo i primi minuti quelli che hanno portato alla golla di Dimolfetta con una bella iniziativa personale un destro a girare al secondo minuto poi però le azioni si sono sviluppate più sull'asse Troiani Ciciretti qui sulla corsia di destra Padella conquista l'ennesima rimessa laterale deve accordarsi con Troiani per la battuta entrambi avevano preso il pallone alla fine è stato proprio Troiani a rimettere in gioco la sfera che adesso è dalle parti di Gori pressing di Zerillo è sterile Gori ha tutto il tempo di pescare Sissè la cui spizzata però va dalle parti di Conti Zerillo per Fazio si fa vedere felici viene servito c'è fuori gioco se c'era era millimetrico c'è anche qualche sostenitore del Torrecuso in tribuna che protesta intanto sgambato chiama l'attenzione la linea difensiva rosso-blu Lucioni allarga verso Pezzi quindi di Molfetta ancora per Pezzi pallone verso Sissè il controllo di Sissè va via di fisico a Conti Sissè può andare dritto verso la porta si libera di un altro avversario Sissè il tiro di Sissè di precisione Sissè davvero un bel vedere destro all'angolino basso alla destra di Minichiello per il 3-0 doppietta di Sissè una grande carica per il Morale 5 gol nelle ultime due uscite per Sissè considerando anche il test in famiglia di cui abbiamo già parlato in precedenza e siamo 3-0 al 38esimo con la doppietta di Sissè e il gol di Molfetta che aveva aperto le marcature e Sissè quando si mette in testa di andare via di fisico ci riesce si è liberato di Conti che tra l'altro non è neanche Mingherlino ma il mismatch a livello anche di progressione in questo caso è stato davvero imbarazzante contro il capitano del Torrecuso che è tornato a vestire la maglia della squadra sannita dopo l'esperienza all'Isola Liri cui si era trasferito a gennaio intanto c'è anche questa punizione per il Torrecuso da seguire Auteri chiama le marcature a centro area non vuole lasciare nulla al caso vediamo dove sarà indirizzato questo pallone battuto da Fazio tiro cross di Fazio e Gori ci mette una pezza il pallone era orientato ad andare in porta attenzione al cross al centro Conti però era finito in fuorigioco sul tentativo di riproporre la sfera al centro del numero 7 Varricchio e annotiamo anche questo quando siamo al quarantesimo minuto questa conclusione di Fazio su punizione Gori si è mostrato molto attento la palla sarebbe finita in fondo al sacco Fazio è appuntato sullo stato confusionale che si crea spesso in queste situazioni al centro dell'area cercando anche magari una deviazione ora Sissè viene fermato da Di Lullo c'è un fallo fischiato proprio danni di Di Lullo in questo caso era stato bravo un altro prodotto del Vivaio del Benevento che sta giocando nel Torrecuso che milita nelle fila del Torrecuso a liberarsi di Sissè quindi ad interrompere la sua giocata Lucioni per Del Pinto fermato Del Pinto un'altra punizione palla che arriva dalle parti di Lucioni per via centrali in verticale verso Di Molfetta che scende quindi a prendere palla la smista per Cruciani Ciciretti Del Pinto Lucioni ancora verso Del Pinto a spazio Del Pinto attenzione perché è dotato di un buon tiro poi cerca Di Molfetta pallone con i giri un tantino lunghi Di Molfetta comunque applaude l'idea del compagno una verticalizzazione che poteva andare sicuramente a buon fine qualche millimetro di troppo però in questo lancio di Del Pinto per il compagno di squadra adesso Cruciani Ciciretti solito duello con Fazio vinto però da Ciciretti che ha preferito affidarsi alla ripartenza dalle retrovie ora Felici un po' troppo lezioso nel servire palla ha sgambato e Conti ci pensa però Menichiello ad anticipare Di Molfetta Conti verso Di Lullo corto per Felici grande giocata di Felici su Cruciani va via Felici anzi Pastore scusate era il nuovo entrato Pastore ad essersi liberato di due avversari poi però non ha avuto buon gioco successivamente ancora Pastore servito da Varricchio la valla era diretta a Furno ma Del Pinto e Mazzarani non si sono lasciati cogliere di sorpresa stop di petto di Padella che dà uno sguardo a Troiani poi preferisce non servirlo serve adesso Padella Lucioni Pezzi Ciciretti insomma Mazzarani Pezzi Lucioni avanza Lucioni supera Di Lullo va via Mazzarani sulla sinistra ma questo pallone è irraggiungibile per tutti anche per lui non per Conti che si affida a Varricchio poi Furno Pastore in qualche modo riesce a servire Furno per la sovrapposizione sulla fascia destra il cross al centro di Furno c'è l'opportunità per Felici il sinistro di Felici viene rimpallato da Lucioni ancora Torrecuso in zona offensiva Pastore Cruciani l'arbitro fischia qualcosa probabilmente un fallo una punizione in favore del Torrecuso è proprio così siamo all'altezza della tre quarti il solito Fazio sul pallone difficile che si pensi a una soluzione direttamente in porta da quella posizione lì più facile invece che il pallone venga proposto al centro la prima frazione comunque volge al termine punteggio di 3 a 0 doppietta di Sissé dopo la rete iniziale di Molfetta va Fazio la rincorsa sembra proprio quella per tirare vediamo cosa deciderà va Fazio il tiro di Fazio e la parata di Gori ha provato l'iniziativa Fazio la punizione però era troppo centrale e debole Gori non ha avuto nessun problema nel bloccarla Troiani di Molfetta sfortunato nel rimpallo che favorisce invece di Lullo palla direttamente in tribuna anche un po' di frustrazione questo rilancio di Lullo che ha terminato la sua corsa in tribuna Sissé controllo elastico di Sissé che ha su di sé sgambato serve di Molfetta il cross di di Molfetta per Ciciretti che non è esattamente il più alto di tutti viene sovrastato infatti la palla arriva Mazzarani un altro cross al centro c'è Cruciani che si inserisce molto bene ma su questa azione finisce il primo tempo qui al Ciro Vigorito applausi del pubblico presente il Benevento ha dimostrato fino a questo momento grande intraprendenza e belle giocate vivacità note positive soprattutto dal nuovo arrivato Troiani e poi un po' da tutti perché effettivamente si è visto davvero un bel gioco vedremo che se nella ripresa cambierà qualcosa Oteri ma difficilmente sarà così anche perché le idee del tecnico sono quelle di provare a tenere in campo più o meno la stessa formazione per tutti in 90 minuti bene per il momento è tutto dal Ciro Vigorito l'appuntamento è con la ripresa tra qualche minuto linea alla pubblicità di nuovo in collegamento dal Ciro Vigorito per il secondo tempo di Benevento Torrecuso la prima frazione si è conclusa con il punteggio di 3 a 0 non ci sono cambi nella formazione giallorossa e almeno all'apparenza anche in quella del Torrecuso pallone gesito proprio dai rosso-blu alla volta di Pastore Zerillo viene anticipato da Lucioni Cruciani deve liberarsi di due avversari lo fa in bello stile poi porta avanti palla con il destro e serve sull'otto mancino di Molfetta quindi Mazzarani del Pinto apertura sbagliata però pane per i denti di Sgambato che adesso prova a liberarsi di Sissè poi si rende conto che non è un'ottima idea e serve Minichiello per il rilancio lungo a guardare bene la formazione del Torrecuso in realtà un cambio c'è stato è uscito Conti a vantaggio del numero 13 Colarusso quindi il difensore centrale Conti ha lasciato spazio a Colarusso per questo secondo tempo ma immaginiamo di vedere tanti cambi nella formazione di Farina che ha portato in panchina ben nove elementi in un'ottica di rotazione totale della Rosa in vista del campionato squadra del Torrecuso che è partita anche abbastanza in ritardo nella preparazione al nuovo campionato c'è stata un po' di difficoltà un po' di difficoltà anche in ambito di mercato in realtà la squadra di Farina allenata da Farina attenzione perché c'è un gran numero di Di Molfetta poi parleremo del Torrecuso seguiamo quest'azione di Di Molfetta viene fermato da Fazio in rimessa laterale era andato via benissimo sulla sinistra di Molfetta sono le giocate che piacciono di più al pubblico esteticamente perfetto il calciatore Scuola Milan che adesso si affida a Pezzi che a sua volta innesca del pinto del pinto per Sisse il pallone di ritorno è troppo lungo arriva Di Molfetta Mazzarani deve crostare con il sinistro lo fa sul secondo palo c'è proprio Troiani e la parata di Minichiello gli evita la gioia del gol sarebbe stato il primo gol con la maia del Benevento pur non trattandosi di gara ufficiale una bella soddisfazione sarebbe stata avere il talento del Chievo Verona che adesso ringrazia anche Mazzarani per questo scambio uno scambio che è avvenuto tra i due esterni di centrocampo del Benevento ora proprio Mazzarani sta andando a dire qualcosa a Troiani per dargli qualche dritta intanto c'è il calcio d'angolo battuto al centro del pinto con un colpo di testa non trova la porta la battuta era stata di Cruciani se non vado errato anzi no era stato Ciciretti che con il sinistro il solito sinistro traiettore a rientrare ha pescato del pinto ci prova ogni tanto del pinto sulle situazioni di palla inattiva a farsi vedere lui che ha nelle corde più che altro il tiro da fuori non ha mai rinunciato ad essere propositivo in avanti anche se con questo modulo con questo 3-4-3 De Oteri non è facile per i centrocampisti lo ha detto anche ieri Marano ad Otto Channel non è facile trovare sbocchi in fase offensiva per qualche inserimento più che altro sono i 3 d'attacco che devono provare a fare molto movimento per dare del filo da torcere alle difese avversarie e in questo caso Sisse e Dimolfetta non ho dato eccome al Torrecuso nel primo tempo pezzi anticipa tutti poi serve Luscioni con qualche difficoltà Fazio deve liberarsi di Sisse e del pinto lo fa bene poi serve il numero 3 di Cicola Russo l'apertura dalle parti di Felici sembrava buona ma Padella ha fatto buona guardia ora Furno per Felici si libera di due avversari Felici il cross al centro Padella Lomura era stato bravo Felici prima su Del Pinto e poi proprio su Padella che però si è rifatto concedendo solo il corner al giocatore del Torrecuso corner che sarà battuto tra qualche istante da Fazio intanto si iniziano ad accendere anche i riflettori del Ciro Vigorito ce n'è bisogno visto che la luce sta calando c'è il cross di Fazio che non ha trovato però Zerillo al centro dell'area adesso ci prova Felici fermato da Del Pinto in maniera regolare secondo l'arbitro e quindi Cruciani cerca l'avanzata cerca il guizzo e trova Di Molfetta porta palla per via orizzontale Di Molfetta trova Troiani poi Ciciretti Ciciretti va via a Fazio poi prova il tocco di esterno per Troiani viene ben fermato da Furno che ha permesso ai suoi di riappropriarsi di una sfera che poteva essere ben più velenosa in quella circostanza Lucioni stop di petto e servizio di testa per Gori che può tranquillamente far ripartire l'azione con le mani Auteri non si è mai seduto dall'inizio della partita sta dando indicazioni dal primo minuto pur trattandosi di un amichevole vuole comunque che i suoi rispettino qualsiasi direttiva ora Mazzarani è chiamato nell'impresa di di raggiungere questa palla è bravo il nuovo entrato Colarusso a rifugiarsi in fallo laterale e Mazzarani per Cruciani fa ripartire il Benevento pezzi si libera di zerillo poi lancia di Molfetta che però aveva fatto il movimento opposto era venuto incontro invece di andare in profondità non si sono trovati nelle intenzioni i due calciatori giallorossi e ne consegue che il Benevento ricava solo una rimessa laterale da questa da questa azione sulla otto sinistro a batterla ai Mazzarani per di Molfetta anticipato da un ottimo varricchio poi con la Russo del Pinto controllo fantastico nel caos poi Mazzarani subisce fallo l'arbitro aveva lasciato proseguire per il vantaggio visto se si se poteva effettivamente far proseguire l'azione nel modo giusto o in maniera indisturbata se vogliamo quando ha visto però che il Torrecuso si era riappropriato della sfera con facilità ha concordato quindi questa punizione e il Benevento può essere pericoloso può rendersi pericoloso in una situazione che vede calcio piazzato dai dal versante Mancino più o meno sulla linea di tre quarti pallone smistato in mezzo da Cruciani la spizzata di Ciciretti palla arriva dalle parti di Molfetta che perde inizialmente il tempo poi beffa Fazio con un gran controllo applausi del pubblico cross al centro di Lucioni colpo di testa di Padella la palla è sul fondo ancora applausi del pubblico presente ci sono diversi tifosi del Benevento la tribuna del Ciro Vigorito è piena è gremita per questa uscita giallorossa c'è tanta voglia di calcio ovviamente dopo un lungo periodo di assinenza ricordiamo che il Benevento mancava qui dal primo turno eliminatorio di Team Cup che poi l'ha visto uscire di scena contro il Tutto Cuoio Zerillo viene fermato con le cattive da Mazzarani se ne accorge l'arbitro Mercurio punizione per il Torrecuso quando siamo al nono minuto in corso 3 a 0 per il Benevento tutte e tre le reti nel primo tempo di Molfetta si se si se pallone che arriva in questo momento dalle parti di Colarusso che deve incaricarsi della battuta del calcio di punizione di Molfetta si frappone si oppone alla battuta della punizione inizialmente e c'è il cross al centro adesso di Varricchio diciamo di Molfetta voleva che la palla fosse spostata fosse allontanata dal punto di battuta designato invece da proprio da Varricchio anzi da Colarusso ora c'è Sisse che a terra si rialza subito ma conquista comunque punizione all'altezza del centrocampo Cruciani con il destro apre tutto dalle parti di Troiani controllo di Troiani per Del Pinto poi Ciciretti tutto in velocità Sisse pallone forte per Del Pinto ma ben controllato torna Sisse poi Ciciretti si gira deve servire sulla destra Troiani lo fa crossa al centro di Troiani insidioso ma Sisse non aveva tagliato sul primo palo non aveva scelto un movimento diverso la palla termine in fallo laterale sarà battuto questo fallo laterale proprio da Troiani cerca qualche compagno libero si fa vedere Ciciretti scambio corto tra i due tentato già tante volte nel primo tempo adesso Ciciretti ancora con il suo sinistro perde palla commette anche fallo su Pastore il Torrecuso che dicevamo in precedenza deve completare ancora l'organico cerca affannosamente una una punta la squadra della famiglia Rillo una punta che era stata inizialmente individuata anche in Jeddah poi la trattativa è svanita così come è sfumata la trattativa che poteva portare alla carra quindi mancano ancora pochi giorni all'inizio del campionato ma il Torrecuso deve necessariamente riempire questa palla in organico squadra molto giovane quella rosso-blu che punta ad un campionato dignitoso in Serie D dopo le ottime prestazioni dello scorso anno quando fu eliminata al secondo turno dei play-off dall'Agropoli dopo aver superato al primo turno il Neapolis una bella soddisfazione per la squadra all'epoca allenata da De Rosa che invece quest'anno è ripartita da Farina Pezzi deve difendersi dal dal contrasto di Enrico che nel frattempo è entrato in campo la palla termina sul fondo Gori può far ripartire il Benevento in tutta tranquillità Tanti giovani nel Torre Cuso sulle alternative sulle alternative sulle alternative anzi ad onore del vero si tratta di Sabato il secondo portiere cambiato anche lui in maniera quanto improvvisa visto che si tratta di cambi volanti non ci sono limitazioni attenzione a Ciciretti prova il tiro a giro ci aveva provato già nel primo tempo la palla termina sul fondo applausi di incoraggiamento dei suoi compagni sta provando anche la soluzione personale Ciciretti un altro cambio in questo caso visibile però per il Torre Cuso sta per entrare nel numero 14 Brogna un cambio lento in questo caso andiamo al posto di chi è uscito dovrebbe trattarsi di Di Lullo è proprio così il numero 4 ha abbandonato il campo a vantaggio di Brogna altro giovanissimo c'è Cruciani che adesso ha messo in farlo laterale un altro pallone scodellato da quelle parti proprio dalle parti di Brogna adesso Zerillo fa partire Enrico che viene però anticipato di Molfetta verso Cruciani con la Russo arretra e si libera di Sisse in qualche modo poi Ciciretti contro Sgambato l'esperienza di Sgambato però è notevole rispetto a quella dei compagni di squadra quello che fa ripartire il Torre Cuso proprio Brogna con Varricchio poi il Torre Cuso lascia cadere l'azione lascia morire l'azione dopo che Enrico non è stato preciso nel servire proprio di Gozerillo Pezzi per Del Pinto ancora Pezzi Gori lancio lungo in direzione di Ciciretti che salta più alto di Furno ma comunque permette a Sgambato di far ripartire il Torre Cuso eccolo proprio Enrico che subisce fallo da Mazzarani bella giocata di Enrico che era andato via all'ex calciatore del Matera esterno sinistro del Benevento ci sarà punizione Otari si lamenta con Sisse vorrebbe più movimento dalla punta guineana nel secondo tempo il Benevento non è andato ancora a segno siamo alla quarto d'ora di gioco 3 a 0 il punteggio ma tutte le reti nel primo tempo ad opera di Sisse e di Molfetta si sia assilato una doppietta Benevento che ha abbassato un po' il ritmo in questa ripresa almeno rispetto a quanto visto nella in una buona mezz'ora della prima frazione quando il ritmo è stato tamburiggiante della squadra giallorossa cross al centro adesso per il Torre Cuso era stato proprio Brogna a scodellare il pallone al centro ora Padella prova un'apertura la cerca non è proprio nelle sue corde ma va apprezzata comunque la volontà di Padella che aveva visto con la cosa dell'occhio di Molfetta i piedi però sono quelli del difensore come giusto che sia la palla non è arrivata dalle parti di di Molfetta sarebbe stata una buona occasione almeno lo era virtualmente per il Benevento che in contropiede poteva far male Ciciretti per Cruciani Pezzi in verticale per di Molfetta con la Russo difende bene su Sissi ma non si trova con Sabato con uno scambio tra i due di incoraggiamento più che altro pallone troppo forte non se lo aspettava Sabato all'indietro il Benevento guadagna un altro corner battuto da Cruciani con il destro fa movimento Padella al centro cross però è dalle parti di Sabato non c'era nessuno ad anticipare il portiere del Torrecuso il suo pastore che sta facendo un gran lavoro da solo lì davanti va a contrastare Troiani si appoggia a Brugna poi subisce fallo da Troiani avrebbe voluto forse il vantaggio pastore perché la situazione stava comunque migliorando per il Torrecuso sulla corsia di destra adesso Enrico vede un po' di spazio poi punta al passaggio alla volta di Felici passaggio complesso però e non capito dal suo compagno di squadra sgambato di prima intenzione sbaglia tutto però perché c'è Troiani Ciciretti controllo di Ciciretti sguardo a Sissé lo pesca bene Sissé solo sul fondo già gridava il gol qualcuno in tribuna perché posizione appetitosa quella di Sissé il destro però è terminato sul fondo non ci ha pensato su due volte in realtà l'attaccante giallorosso c'è un altro cambio per il Torrecuso entra il numero 16 Langellotti al posto del numero 10 Felici che ha disputato una buona partita il rinvio di sabato dalle parti di Brogna del Pinto però a svettare più alto di tutti mettere la palla in fallo laterale numero 7 Varricchio alla battuta della rimessa Zerillo Brogna non arriva sul pallone poi Varricchio quindi Fazio è bravo del Pinto ad anticipare la palla torna dalle parti di Cruciani anticipato a sua volta da Fazio poi Zerillo Troiani in anticipo e in bello stile soprattutto va via per via centrali Troiani fermato placcato da da Zerillo l'arbitro gli fa cenno di non farlo più i cartellini sono ben riposti nel taschino però sicuramente in gara ufficiale sarebbe stato un intervento meritevole di Giallo buone cose quelle fatte vedere da Troiani ultimo acquisto in ordine di tempo del Benevento che deve far fronte ad una rosa di 27 elementi quando sono 23 quelli consentiti se si vuole aderire alla legge Melandri e alla regolamentazione sugli under per percepire quindi i contributi federali principali indiziate a partire sono Somm e Dagey ne mancherebbe un terzo vedremo come andranno le cose adesso Ciciretti con il sinistro aveva beffato Sabato che probabilmente è stato vittima anche di una deviazione infatti è così perché c'è calcio d'angolo non si spiegherebbe altrimenti la partenza del portiere della Torrecuso alla sua sinistra fosse stato interizzato in porta questo pallone complice alla deviazione il Benevento avrebbe calato il poker vediamo se ci riesce in questa circostanza calcio d'angolo di Ciciretti cross al centro il tacco di pezzi non trova nessuno però Bruni allontana quindi Enrico la palla però è ancora in possesso dei giallorossi ventesimo minuto in corso della ripresa Gori con calma olimpica verso Luciani pallone sulla sinistra per Cruciani pezzi apre il gioco per Padella controllo di Padella del Pinto Padella ancora per Cruciani apertura verso Troiani poi Ciciretti non si trovano questa volta i due quindi Fazio all'indietro pallone complicato da decifrare ma sabato è tutto solo non c'è neanche il pressing si fa vedere addirittura Fazio inseguito a malapena dall'altro numero 8 Cruciani numero 8 del Benevento ovviamente sabato rilancia dalle parti di Enrico anzi di Furno ma non non trova risposte adesso c'è un numero sulla corsia di sinistra premiato poi con una punizione dall'arbitro punizione che era netta dovrebbe essere stato l'Angellotti ad operare questa bella giocata adesso Furno prova il destro la palla si perde debolmente sul fondo un tentativo velleitario quello di Furno che aveva provato già nel primo tempo la conclusione e Gori può rimettere in gioco questo l'ennesimo pallone di questo secondo tempo Padella gestisce lui sulla destra per Ciciretti di prima intenzione verso Troiani deve controllarlo lo fa così così Furno preferisce non rischiare e depositare il pallone in rimessa laterale chiamano il pallone solito problema i giocatori del Benevento da quelle parti non ce ne sono più bisogna recuperarli perché la curiosità è che ieri a Lavello ne sono stati persi almeno così si dice ben cinque e la fornitura della Lega Pro almeno inizialmente non è illimitata palloni che staranno utilizzati per curiosità anche nelle gare di campionato questi qui di proprietà del Benevento Ciciretti Ciciretti verso Troiani Sissè Del Pinto Pezzi Mazzarani Pezzi Autari Autari ha chiamato l'intervento di Molfetta sulla sinistra si era centrato troppo come spesso accade il calciatore Scuola Milan Autari l'ha richiamato subito all'ordine attentissimo a questi particolari l'allenatore siciliano Padella prova il passaggio in verticale per Sissè che tenta a sua volta di incutere timore a sgambato non ci riesce Eccola Russo lancia lungo sull'out di sinistra Diego Zerillo cerca il servizio per l'Angellotti ne guadagna solo una rimessa laterale rimessa che sarà battuta da Furno palla per Fazio uno dei calciatori rimasti in campo per interi 90 minuti al pari di Sgambato Zerillo e pochi altri del Pinto ovviamente parliamo del Torrecuso perché nel Benevento non ci sono stati cambi fino a questo momento se prova lo scatto non lo vede nessuno sarebbe stata una bella iniziativa quella del guineano che aveva rubato il tempo a Colarusso ora c'è un fallo fischiato ai danni di Ciciretti Zerillo prova a spiegarsi con il numero 7 del Benevento era stato Sgambato a commettere fallo proprio sull'ex Messina Cruciani in profondità verso Di Molfetta che apparentemente era sfuggito alla marcatura del numero 7 Varricchio ma appunto solo all'apparenza perché il pallone era troppo lungo e Varricchio è riuscito a fare buona guardia alleggerendo per Minichiello di fatto favorendo l'intervento del portiere adesso di Suola di Molfetta perde il pinto che prova l'avanzato sulla sinistra sì sì contro la palla la gestisce e la appoggia a Cruciani anticipato da Zerillo che è veramente l'uomo ovunque di questo Torrecuso nonché capitano dopo l'uscita dal campo di Conti Padella deve liberarsi del diretto avversario lo fa la palla che esce anche se di qualche millimetro ci sono le proteste del pubblico appostato proprio dietro le panchine in tribuna inferiore Sgambato continua ad incitare i suoi chiama il gioco veloce Torrecuso che nel secondo tempo ha tenuto comunque bene il campo rischiando pochissimo poche le iniziative del Benevento degne di nota lo dicevamo la squadra di Euteri ha calato un po' il ritmo nella ripresa dopo il 3 a 0 della prima frazione poche le iniziative realmente pericolose una di queste ha riguardato Sissé ben pescato in profondità da Troiani ma in preciso al momento dell'abbattuta a rete con il destro Del Pinto 26esimo in corso c'è il numero 6 del Torrecuso Sgambato che prova a difendere palla subisce anche fallo da Ciciretti gli va anche a dire qualcosa in questo momento poi Furno ha battuto già per l'Angellotti Zerillo Brunia chiama palla ma c'è questo servizio dal lato totalmente opposto per Enrico che non trova la fortuna sperata pallone che termina quindi nuovamente in fallo laterale Mazzarani all'indietro per pezzi attenzione al pressing del Torrecuso che è abbastanza insidioso in questa circostanza poi pezzi si libera con un numero di Diego Zerillo Accademia di pezzi in questo caso un giocatore che duttile efficace e che ha soprattutto impressionato nella scorsa stagione tanto da meritare una riconferma più che legittima da parte del club è un calciatore molto apprezzato anche da Uteri che può utilizzarlo in vari ruoli oggi l'abbiamo visto nei tre di difesa ma può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra nel 3-4-3 di Euteri un vero e proprio jolly che ha avuto modo di apprezzare anche Brini lo scorso anno sì sì per Cruciani può provare il destro lo prova Cruciani debole sabato blocca in due tempi la palla è per sgambato corta verso Fazio controllo di Fazio su Cruciani poi vede Furno e lo serve anche lui in campo dal primo minuto oggi Pastore che invece è subentrato nel primo tempo a Picozzi che aveva accusato probabilmente un problema perché il cambio è avvenuto addirittura prima della mezz'ora ora Langellotti vede in profondità Zerillo che si era mosso troppo in anticipo l'assistente Signorillo aveva sbandierato già per la posizione regolare ora Brogna si difende bene su Del Pinto con questa punizione e fa ripartire il Torrecuso ci abbiamo verso la mezz'ora 29esimo minuto 3 a 0 per il Benevento sta calando l'oscurità sul Ciro Vicolito riflettori accesi già da diverso tempo la rimessa laterale è per il Torrecuso va Furno già pronto con le mani duetta con Zerillo poi va via bene sulla sinistra addirittura poi supera anche Del Pinto prima però di vedere interrotta la sua trama si se per Di Molfetta Cruciani Di Molfetta controllo di Di Molfetta passaggio per Mazzarani poi Di Molfetta Cruciani Del Pinto Ciciretti Padella siamo a circa un quarto d'ora dal termine vediamo se il Benevento riuscirà ad assestare un altro colpo la palla naviga dalle parti di Sissé esce Sabato che poi subisce la carica dal giocatore della Guina che poi a porta vuota colpisce addirittura il palo è provato comunque a concludere nonostante avesse sentito il fischio dell'arbitro Sissé comunque oggi ha confermato la sua grande vena realizzativa soprattutto in occasione del secondo gol è stato davvero bravo nel trovare la coordinazione nel primo invece di prepotenza di Caparvietà ha superato due avversari e poi di giustezza ha punito Minichiello piazzando la palla all'angolino alla sua destra pallone allontanato del Pinto adesso dopo il rinvio di Sabato L'Angellotti azione confusa sulla hotta sinistra però del Torrecuso ci sarà rimessa laterale per il Benevento tanto dicevamo in apertura che il campionato di Lega oggi ha visto stilare i propri calendari secondo questa azione del Torrecuso però allontanata subito dalla difesa del Benevento la prima giornata vedrà il Benevento opposto alla Vigor Lamezia qui al Vigorito le altre partite sono Catanzaro Casertana Cosenza Martina Ischia Lupa Cazzelli Romani Lecce Fidelisandria Matera Acragas Melfi Juve Stabbia e Paganese Foggia in attesa di conoscere le due incognite la W e la Z così indicate all'interno dei registri dei vertici di Lega che andranno a comporre appunto l'altra partita di campionato del primo turno di campionato c'è Fazio adesso per Pastore Ciciretti con questa palla centrocampo può andare via da solo c'è una situazione importante perché sulla destra si sta facendo vedere Troiani lo serve adesso Ciciretti forse con un attimo di ritardo e anche con un po' di imprecisione perché Troiani è sì in possesso di palla ma è stato costretto a temporeggiare dal ripiegamento di Sgambato ancora Troiani Padella Cruciani pretende troppo però da Mazzarani che era già postato troppo largo sulla sinistra e non è riuscito a raggiungere la sfera in tempo prima dell'anticipo appunto del numero 17 Enrico che adesso ha aperto il gioco per l'Angellotti attenzione uno contro uno con Padella l'Angellotti il tiro dell'Angellotti Padella non lo lascia passare Gori praticamente inoperoso nella giornata odierna ha fatto eccezione effettivamente per quella punizione del numero 8 Fazio sul finire di primo tempo quello ha messo un po' in difficoltà c'è un altro cambio nel Torrecuso entra il numero 15 Visce Farina sta dando spazio davvero a tutti ed è uscito un ottimo barricchio che ha giocato bene sulla corsa in tandem con Furno Lucioni allontana la valla adesso il numero 17 Enrico viene anticipato da Mazzarani poi l'azione sembra perdersi per il Torrecuso questo lancio è troppo lungo all'indirizzo del calciatore che dovrebbe essere Brugna non è riuscito a raggiungere la sfera probabilmente Fazio perché Brugna era nel frattempo al centro campo cambia poco sì era Fazio cambia poco comunque perché l'azione si è persa sul fondo ha dato modo al Benevento di riorganizzare un po' le idee Pezzi pesca stavolta bene si si deve difendere palla su quella russo si si vede Del Pinto poi Ciciretti Ciciretti il tiro di Ciciretti il sinistro ancora una volta centrale non riesce a trovare la via del gol oggi il numero 7 del Benevento che nel test in famiglia di sabato scorso era apparto un po' appesantito ovviamente i carichi di lavoro sono stati distribuiti diversamente per lui rispetto al resto della Rosa è arrivato in ritardo rispetto a molti altri nel ritiro romano dovuto adeguarsi poi successivamente ai carichi di lavoro di Auteri e lo stesso Auteri ha ammesso che si trattava proprio di questo in conferenza stampa quando gli è stato chiesto come mai Ciciretti viaggiasse a metà al 50% di quanto invece avesse viaggiato nelle precedenti uscite c'è una punizione all'altezza della tre quarti sulla sfera Cruciani che parla con Lucioni chiama probabilmente l'avanzata dei centrali per provare qualche colpo di testa infatti avanzano entrambi sia Lucioni che Padella la palla non arriva a nessuno dei due però di Molfetta due avversari su di lui adesso non riesce a crossare l'appoggia del Pinto quindi Cruciani di esterno in profondità verso del Pinto palla sul fondo tutto a vantaggio di Sabato adesso la posiziona per il rinvio è uscito anche Diego Zerrillo ed è entrato il numero 18 Bruno formazione dunque completamente rivoluzionata nella Torrecuso numero 15 Vesce adesso perde palla è un controllo difettoso è il Benevento con Lucioni si riorganizza poi Padella del Pinto e Cruciani la palla gira però lentamente in questi minuti finali Pezzi vede il lancio di Sisse chiamato anche da Auteri elogiato da Auteri l'attaccante africano viene messo giù da Sabato speriamo nulla di grave per lui perché il contrasto c'è stato Sabato non si è fermato vedendo l'avanzata dell'attaccante del Benevento temendo probabilmente che potesse beffarlo con un pallonetto e nelle corde di Sisse anche questa giocata entrati i sanitari del Benevento in campo per porre rimedio a questa questa situazione intanto acqua per tutti sia sulla panchina del Benevento che su quella del Torrecuso il caldo comunque si fa sentire nonostante sia calata la sera sul cielo Vigorito e su Benevento vediamo che se si rialza sarebbe davvero un peccato se si fosse fatto male in questa circostanza vediamo fa qualche prova stanno provando a rimetterlo in sesso con lo spray sanitari giallorossi c'è anche la pacca sulla spalla da parte di Sabato difficile metterlo giù effettivamente si si che adesso curiosamente prende anche una pallonata davvero sfortunato in questa circostanza il calciatore giallorosso una circostanza se non fosse per il suo destino potremmo definire addirittura simpatica non la pensa così sicuramente si si che adesso va a riposizionarsi al centro dell'attacco del Benevento Sabato per la ripartenza dell'azione del Torrecuto è stato con la Russo adesso a gestire per Fazio poi sgambato Fazio Brogna si propone non viene servito viene servito invece Furno il pallone è per Langellotti controllo di Langellotti per Furno ancora Furno in profondità verso Pastore dai e vai con Langellotti va via Langellotti ancora per Pastore murato però questo tentativo da Del Pinto di Fazio Brogna all'indietro verso Sgambato non ci pensa due volte apre il gioco all'indirizzo del numero 15 Vesce di testa Vesce ora Brogna è stato Enrico a servire Brogna adesso Dimolfetta verso Sissé che a giudicare dallo scatto ha recuperato subito la condizione Sissé fa impazzire con la Russo poi rientra la dà Ciciretti di tacco Ciciretti bella azione del Benevento da quel lato Troiani sguardo al centro poi un 1-2 troppo lezioso però questa volta Ciciretti doveva trovare un'altra soluzione ed è una scena che si è riproposta spesso soprattutto contro il Lavello si arriva bene in area di rigore con discreta facilità e lucidità poi però la via del gol non viene trovata perché spalle alla porta non ci si riesce a girare con i tempi giusti è questo che bisognerà migliorare sicuramente nel Benevento dal Gatò Gaetano Auteri che ha comunque fatto registrare progressi importanti nelle ultime settimane ora del Pinto sia proprio di questa sfera non ci crede di Molfetta ha fatto una bella giocata in realtà il centrocampista del Benevento provando a cercare a centro area un attaccante che non è arrivato però con i tempi giusti non è arrivato in tempo più che altro di Molfetta adesso Fazio verso L'Angelotti che a sinistra ha provato quello che ha potuto fare per raggiungere la sfera non ci è riuscito a controllarla 41esimo in corso 3 a 0 per il Benevento mancano 4 minuti al termine anche della seconda frazione di questo secondo test match in due giorni per il Benevento che ieri ha sconfitto il lavello 6 a 0 in Basilicata e che oggi contro il Torrecuso si sta replicando con una vittoria a margine ridotto ma comunque efficace anche per quanto visto soprattutto nella prima frazione dagli 11 che sono stati poi riconfermati da Oteri anche nel secondo tempo Sissè verso Mazzarani allarga il gioco quindi il Benevento poi si accentra Mazzarani Sissè giocata di destro-sinistro verso di Molfetta poi Cruciani allarga il gioco verso Padella controllo di Padella perde il pinto in verticale per Ciciretti la palla però resta lì Ciciretti servito ancora da Padella Fammelina adesso il Benevento Lucioni Pezzi si era inserito di Molfetta con le ultime energie rimaste di questo pomeriggio d'agosto Mazzarani ha servito Pezzi che però ha perso palla poi il numero 18 Bruno non ha avuto vita facile proprio con Pezzi che si è rifugiato nuovamente in fallo laterale Fazio all'indietro verso Sabato occasioni da gol non se ne vedono da un bel po' la noia prevale soprattutto in questa seconda parte di secondo tempo lancio lungo di Colarusso a cercare il numero 19 Pastore che non è riuscito però ad anticipare Pezzi quindi solito film Pezzi Lucioni Padella e adesso Cruciani Padella Del Pinto Di Molfetta si libera bene Di Brogna quindi Cruciani Di Molfetta Pezzi Del Pinto Pezzi per Mazzarani Fa movimento Del Pinto che ha avanzato il baricentro lentamente poi Mazzarani perde palla Ciciretti sull'attacco di Bruno che subisce fallo dovrebbe mancare pochissimo alla termine del secondo tempo vedremo se l'arbitro farà sconti siamo alla 43 appena terminato siamo quindi all'interno del 44 minuto Colarusso vede Pezzi che deposita la sfera in fallo laterale fa la giocata soprattutto a centrocampo in questo finale ma è una caratteristica delle amichevoli che abbiamo visto fino a questo momento del Benevento ma non solo del Benevento ovviamente caratteristica delle amichevoli di agosto nei minuti finali ovviamente si vada a tirare un po' il freno a mano le cose migliori si vedono spesso nel primo tempo ad eccezione ovviamente dell'amichevole contro il Lavello che ha visto i giallorossi nettamente meglio nella ripresa dopo un primo tempo terminato a reti inviolate tra lo stupore dei presenti al pisicchio di Lavello con la squadra di casa che aveva tenuto bene il campo e si era difesa bene al cospetto di un Benevento sicuramente superiore l'arbitro si appropia della sfera all'improvviso e il signor Mercurio quindi decide che basta così improvvisamente al 44esimo minuto ecco lo sconto siamo in periodo di saldi evidentemente il Benevento batte il Torrecuso 3 a 0 al Ciro Vigorito le reti di Dimolfetta e la doppietta di Sissè nella prima frazione decidono quindi il match con la compagine Sannita che il prossimo anno praticamente la prossima stagione quella che sarà per iniziare parteciperà al campionato di Serie D è davvero tutto dal Ciro Vigorito un saluto e un ringraziamento da Francesco Carluccio di Sissè